Amici carissimi, bentornati insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicate ai nuovissimi. Abbiamo iniziato la volta scorsa il tema della risurrezione della carne e abbiamo visto le tre sfaccettature che questo tema prende nella Sagra Scrittura, cioè la risurrezione, la risurrezione in Evangelii, le tre risurrezioni operate da Gesù, la risurrezione di Gesù e la risurrezione dei morti, che sono tre facce di una stessa medaglia appunto il tema della risurrezione, ma evidentemente con delle significazioni un pochino differenti. Questa è la ventiseiesima credo puntata del ciclo di catechesi e questa sera faremo uno step successivo andando a vedere cosa il Magistero della Chiesa ha detto sulla risurrezione perché questo tema fin dai tempi antichi è stato oggetto di discussione, specialmente in certi gruppi mezzi gnostici o mezzi strani, si faceva fatica a credere che la risurrezione della carne è la risurrezione di questa carne e che il corpo risuscitato sarà esattamente il corpo che io ho avuto in vita, cioè glorificato sì, ma questo corpo, capito amici? Quindi quello stesso corpo che vende composizione, che viene seppellito e che diventa cibo per i vermi, che conosce la corruzione. Ecco, questo perché, tanto per introdurre, ci sono state soprattutto nel corso dei primi secoli, ma queste poi ritornano ogni tanto nel corso della storia, delle correnti ereticali che, di ispirazione tutte quante platonica, tutte, sapete che Platone affermava la nettissima superiorità dell'anima rispetto al corpo, affermava il fatto che le anime erano state pre-create da Dio, erano pre-esistenti ed erano state messe dentro questo corpo in maniera quasi che fosse un castigo di qualche misteriosa colpa primordiale e pertanto penavano tutta la durante la vita terrena in questo carcere del corpo in attesa della liberazione, cioè la morte è il momento della liberazione, finalmente, dell'anima dal corpo. Ho, pur con tutta, per carità, il merito che bisogna riconoscere a Platone per aver proprio postulato, è stato uno dei primi filosofi, certamente dopo Socrate, ad evidenziare l'importanza dell'anima, quindi di Dio, eccetera, eccetera, ma una visione del genere è proprio assolutamente inaccettabile. Ecco, ancor più, per chi sta seguendo il ciclo di catechesi paralleli, ma anche questo è un dettaglio accidentale, se si pensa a quanto è forte il vincolo tra l'anima e il corpo alla luce, per esempio, degli scritti di Tenera Amata. Cioè, ci sarà una separazione innaturale della nostra anima dal nostro corpo, ma dal nostro corpo cioè dal nostro cadavere, perché il corpo integrale che noi abbiamo avuto e che vive nella quinta dimensione che è l'eternità creata, è indisgiungibile. Cioè, adesso, in questo momento, la mia anima è fusa, non fusa, meglio è, informa meglio così il mio corpo alla maniera con cui la forma sta alla materia dentro qualunque sostanze. Capite? Non si trova la mia anima se non dove c'è anche il mio corpo. Ecco perché era impossibile, cioè, che la redenzione non comprendesse la resurrezione della carne, perché non è possibile che il mio corpo a un certo punto diventi cadavere e lì rimanga per tutta l'eternità. Sarebbe proprio una cosa pazzesca, perché noi siamo uomini. Ecco perché Gesù è veramente risorto dalla morte. Voi sapete che la cosa fondamentale che Gesù ha fatto è stata la passione alla morte, perché la nostra redenzione dipende principalmente dalla passione e dalla morte di Gesù, perché è lì che siamo stati riconciliati, è lì che sono stati pagati i nostri peccati. Ma la resurrezione del corpo di Gesù, del cadavere di Gesù, una resurrezione che significa vittoria sulla morte e impossibilità futura di essere soggetto alla corruzione e alla morte, che è il principio e la primizia della nostra resurrezione, era necessaria per la restaurazione, la nuova creazione dell'uomo tutto intero. Cioè noi siamo in un tempo in cui la carne, che non è la stessa cosa del corpo, qui adesso non vorrei mettere troppa carne al fuoco, ma per esempio in San Paolo, bisognerebbe fare uno studio, quando San Paolo parla di carne, i peccati della carne, coloro che vivono secondo la carne, non sta sminuendo il corpo, soma, somatos è in greco, carne è sarx, corpo è soma, ma sta facendo presente come, a causa della corruzione, della concupiscenza e del peccato, la nostra corporeità diventa uno strumento di avvilimento e di abbrutimento, non certo perché il corpo di per sé è una cosa negativa, perché è la nostra volontà che sceglie di andarsi ad avvoltolare in mezzo ai vizi carnali. Ma questo non significa che in se stesso il corpo sia una cosa negativa, siamo noi che ne facciamo un uso mortificante, che ci abbrutisce, che ci rende simile alle bestie, anzi, di questi tempi, mi si perdoni, siamo andati, ma molto al di là delle bestie, ma molto al di là, perché a differenza delle bestie, le bestie almeno hanno soltanto gli istinti, che tra l'altro gli istinti sono in loro tutti quanti conformi alla volontà di Dio. Non noi abbiamo l'intelligenza, perché possiamo andare ad escogitare e non soltanto dei libri che non nomino perché non gli voglio dare l'importanza di nominarlo, ma tutti li conoscono, quei libri che studiavano ed esplicitavano l'arte di trarre piaceri sempre più intensi e sempre nuovi dai piaceri della carne. Questo oggi è diventato roba da, come dire, da ragazzi, roba da sbarbatelli. Ah, adesso ce ne abbiamo di tutti i colori, adesso, di tutti i colori, come ben sappiamo, no? Io ho visto recentemente, lo dico perché sta su una nota casa che trasmette in streaming, una serie riguardante il corpo umano, interessante perché per meglio conoscere, lodare e stupirmi tutto quello che il Signore ha fatto, ogni tanto mi piace vedere qualche documentario, anche se poi uno deve sempre assorbirsi, deve pagare il prezzo per queste cose, di tutte le cretinate che dicono, che presuppongono il darwinismo e l'evoluzione, però uno si tappa le orecchie e però poi si prende il resto del documentario, no? Ma veramente, cioè, qui abbiamo veramente toccato, perché nell'ultima puntata, quando si parlava del mistero della vita, tutta la puntata così. Allora, numero uno, la coppia. Qual è una coppia che deve avere un bambino? La coppia sterile, ovviamente. E a proposito della coppia sterile, lei si presenta alla Fivet come, ah, che bello, abbiamo fatto la Fivet, finalmente abbiamo avuto questo bambino, è veramente un nostro bambino, quindi come una cosa normalissima. E uno già sta un pochino, dice un po', dico, ma tu guarda questo, cioè, perché il messaggio di queste cose è terribile, perché per come viene evidentemente presentato dentro una rappresentazione cinematografica, perché di fatto quello è un film, anche se è un documentario, cioè, il messaggio è tutto normale, ma non è finito qui con tutto normale, perché poi c'è il seguito. Il seguito è una coppia composta così. L'uomo che apparentemente sembra un uomo come tutti gli altri, è in realtà un transessuale che da donna è diventato uomo, quindi sembra un uomo per ferito, quindi con la barba, con i peli, su queste cose qui, no? Io non è che sono molto pratico, tra l'altro, poi di queste cose, quindi non so neanche bene come funziona. Che cosa succede? Succede che anche loro devono avere un figlio, e anche loro con Fivet, soltanto che il figlio viene impiantato nell'utero del marito, perché il marito, a quanto pare, si era fatto, come si chiama, la mastectomia, quindi si era tolto il piano di sopra, ma non aveva completato l'operazione del piano di sotto. E quindi poi partorisce questo bambino concepito in Fivet, con Cesario, e tu ti vedi questa scena di un lettino di quelli che si vedono nei posti dove ci sono i bambini appena nati, con il bambino in braccio, tutto quanto insanguinato, a colui che lo ha fatto nascere. Ovviamente tutto normale. Tutto normale, secondo... Così ho imparato che oltre a fare estrema attenzione quando si usa la scatola del diavolo a film e a serie, perché è facilissimo imbattersi in monnezzai, adesso non si può stare più tranquilli neanche quando uno vede un documentario. Vabbè, pazienza, sono i tempi in cui ci è toccato di campare, no? Ma queste cose non significano che capite che il corpo in sé sia una cosa negativa. Vedete che questa è la volontà umana che oggi si pensa di avere la possibilità prometeica di andare a manipolare il proprio materiale corporale, genetico, sessuale, come, dove e quando gli pare, senza nessun tipo di limite che non sia quello che mi passa per la testa. e senza che nessuno si possa azzardare a dire A, perché se dici A, discrimini. Cioè, capito? Va bene. Detto questo, è chiaro che, grazie a Dio, il corpo redento da nostro Signore non è questo. È vero che purtroppo nel nostro corpo sentiamo maggiormente in questa vita la concupiscenza e quindi la decadenza del peccato, ma in sé stesso il corpo è una cosa buona da creata nostro Signore. Non solo, ma è qualcuno lo chiama l'epifania, la modalità ordinaria di espressione dell'anima. Non solo. Ma l'anima esplica gran parte delle sue funzioni inconsce proprio sul corpo che dirige, che governa in tutte le sue manifestazioni. Perché che ne dicano scienziati e scientisti, noi crediamo che tutto ciò che avviene all'interno del nostro organismo è presieduto dall'anima. È l'anima che fa funzionare tutto bene. Certo, nella misura in cui gli organi corporei non vengono danneggiati e vulnerati da qualche agente patogeno che li fa zompare per aria. Ecco, tutto questo sia chiaro perché il cristianesimo ha una visione positiva del corpo, ha certamente una visione negativa della degenerazione e dell'uso distorto del corpo da parte della volontà che fa nascere l'uomo carnale, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingarnatrici e che dà luogo a tutta quanta la congere impressionante di impurità che degranda l'uomo. Tutte le impurità, così nessuno si sente discriminato. Tutte le impurità. perché anche gli atti impuri solitari, anche i rapporti prematrimoniali tra l'uomo e la donna, l'adulterio, eccetera, eccetera, sono tutti quanti gravissimi peccati e sono forme che degradano comunque l'uomo. Anche queste degradano l'uomo. Tutte. Ecco, va bene. Detto questo, apriamo il secondo step di oggi che riguarda e il magistero della Chiesa, specialmente quello antico, che vedremo ha sullo sfondo questa visione spiritualista. Quindi dice però Gesù Cristo è risorto e quindi risorgeremo. Sì, ma risorgerà una specie, un corpo che non è proprio il corpo nostro, è un corpo spiritualizzato, quindi è un corpo, è una specie di corpo come dire etereo, perché questo corpo secondo certe prospettive platoniche questo non è destinato alla vita eterna. Voi pensate che c'erano una setta di gnostici che sono i Nicolaiti di cui parla San Giovanni nel libro dell'Avocalisse poi seguiti da altri gnostici tipo Valentino e i suoi seguaci che capite con questa visione negativa del corpo sapete cosa dicevano? Siccome il corpo è tutto negativo quindi il corpo è qualcosa che non c'è niente a che fare con l'anima dovrà morire quindi conseguenza di ciò guardate le raffinatezze del diavolo conseguenza di ciò gli atti impuri ma puoi farne quanti ne vuoi puoi farne ti piacciono? Se ti piacciono falli se non ti piacciono non li fare tanto alla tua anima non li fanno né caldo né freddo perché la tua anima è distante da queste cose cioè queste cose basse carnali non toccano la tua anima se ne vuoi fare falli se non le vuoi fare non fare tanto non cambia niente e chi ricorda il libro dell'Avocalisse ricorderà come Gesù dice che Nicolai ti li detesta proprio perché insegnavano queste stupidaggini grosse quanto una casa allora andiamo a vedere abbiamo ben tre sinodi i sinodi di Toledo quando ancora vabbè meglio che non dico quello che mi sta passando per la mente che è meglio e poi abbiamo due interventi di Papi Leone IX e Innocenzo III il grande Innocenzo III e poi abbiamo delle affermazioni del concilio Lateranense IV ecco per la verità su questo argomento ho dovuto intervenire anche recentemente nel 79 la congregazione della cortina della fede perché sull'escatologia negli ultimi 50-60 anni come su tante altre cose che il diavolo non esiste che l'inferno è vuoto queste cose qui sono state sparate di tutti i colori e quindi è dovuto intervenire un documento proprio una lettera sull'escatologia per ribatire la dottrina tradizionale escatologica cattolica che dovrebbe essere scontata ma a quanto pare per molti non è avremo modo di vedere anche questa allora cominciamo dalla lettura del primo testo che è il sinodo di Toredo il quarto del 638 che si trova al Densi che era numero 485 il testo è molto esteso perché questo è praticamente un simbolo trinitario escatologico quindi che comincia col parlare della Santissima Trinità poi dall'Incarnazione poi della Vergine Maria eccetera eccetera però le cose che sono interessanti io comincio a leggerlo da metà quando parla dell'Incarnazione del Figlio appunto perché spiega la doppia natura la sua corporità per poi arrivare alla risurrezione della carne quindi comincio a leggere da metà del testo lo stesso Signore Cristo Gesù uno della Santa Trinità ha assunto senza peccato l'uomo completo in anima e carne rimanendo ciò che era e assumendo ciò che non era questa è la frase tipica bellissima rimanendo ciò che era cioè vero Dio e assumendo ciò che non era cioè la natura umana fatta di anima e di corpo qui la chiama carne perché in latino carne e corpo sono abbastanza sinonimi a differenza del greco uguale al padre nella divinità e inferiore al padre nell'umanità egli ha in un'unica persona quella divina del figlio con il giro di Calcedonia le peculiarità di due nature infatti in lui sono due nature Dio e uomo attenzione però non però due figli e due dei bensì il medesimo una sola persona in ambe due le nature egli patì sofferenze e morte per la nostra salvezza non nella forza della divinità ma nella debolezza dell'umanità ha patito ed è morto in quanto uomo non in quanto Dio discese negli inferi per liberare i santi che vi erano trattenuti e dopo aver vinto la signoria della morte attenzione è risorto assunto poi in cielo verrà in futuro per il giudizio dei vivi e dei morti purificati dalla sua morte e dal suo sangue abbiamo conseguito la remissione dei peccati per essere risuscitati nell'ultimo giorno in quella carne attenzione nella quale ora viviamo familiarizzarsi con questa espressione in quella carne nella quale ora viviamo e in quella forma in cui lo stesso Signore è risuscitato quindi capite che significa che nella resurrezione il corpo che io è questo è il mio ma nella forma del Signore cioè risorto non come la resurrezione dei Vangeli cioè rientra l'anima nel cadavere e poi tra 20-30 anni il cadavere diventa un'altra volta ma nella forma del Signore risorto cioè vincendo la morte Cristo risuscitato delle morti non muore più la morte non ha più alcun potere su di lui e sui risuscitati della risurrezione della carne così sarà e attenzione noi l'assenza di potere della morte quindi l'immortalità è una delle poche caratteristiche che avranno non soltanto i corpi dei beati perché tutti risorgeranno ma anche quelli dei dannati e per loro non sarà una cosa tanto divertente l'essere immortali per tutta l'eternità perché capite no? uno qua gli prende una brutta malattia che lo tormenta nel corpo e ha la speranza di guarigione o quanto meno dice se non guarisco morirò e se moro finisco di soffrire amici cari di là non è così perché di là la fine della sofferenza semplicemente non c'è e nemmeno la morte che non è certamente una lieta prospettiva di chiusura può darti un pochino di speranza gli uni vedete gli uni per essere risuscitati da lui nell'ultimo giorno ma gli uni riceveranno da lui la vita eterna per i meriti della giustizia gli altri a causa del peccato la condanna del supplizio eterno questa è la fede della chiesa cattolica questa professione di fede conserviamo e manteniamo chi l'avrà costruita con grande fermezza avrà la salvezza perpetua il secondo testo che esaminiamo è sempre un altro sinodo di Toledo ce ne sono stati tanti pensate che l'ultimo che andremo a vedere è il sedicesimo quindi ce ne sono stati un po' allora il dundicesimo sinodo di Toledo si è svolto nel 675 e si trova al Densinger al numero 540 qui si chiama proprio titolo del paragrafo la sorte dell'uomo dopo la morte quindi proprio interamente dedicato alla nostra materia io chiedo sempre perdono se ogni tanto in queste dirette serali ogni tanto purtroppo si vede che forse sono un pochino provato non è certamente che non riesco in certi istanti a trattenere qualche sbadiglio perché voglio sminuire questi argomenti o perché non mi interessano semplicemente perché le giornate a volte sono un pochino impegnative e la stanchezza si sente ovviamente io non mi interessa della stanchezza però specialmente nel video è possibile vedere qualche cosa di queste abbiate sempre tanta pazienza pietà e misericordia se possibile leggo il testo professiamo che secondo questo esempio del nostro capo avverrà la vera risurrezione della carne di tutti i morti crediamo attenzione che non risusciteremo in una carne aerea o in un'altra qualsiasi come qualcuna come qualcuno fantastica vedete come fa riferimento a queste correnti eredicali no ma in quella nella quale viviamo sussistiamo e ci muoviamo è importantissimo questo particolare dopo aver realizzato l'esempio di questa santa risurrezione il nostro signore salvatore mediante l'ascensione riprese il trono del padre dal quale nella sua divinità mai si era allontanato sentite la sana dottrina cattolica là egli siede alla destra del padre e viene aspettato alla fine dei tempi come giudice dei vivi e dei morti di là verrà con tutti i santi per tenere il giudizio e segnare ad ognuno il debito del suo salario per ciò che di bene o di male ha fatto nel corpo attenzione anche a quest'altro concetto la retribuzione amici cari questo concetto deve essere chiaro e ne parlo in continuazione perché oggi si parla troppo avvanvera e solo di misericordia chi dà retta a questa cosa senza considerare l'altro aspetto che è la giustizia amici cari parte che mette in pericolo la salvezza dell'anima ma perde delle cognizioni fondamentali la retribuzione vuol dire questo qui che quando saremo giudicati l'abbiamo già visto ma lo ripetiamo dal Signore noi riceveremo come premi o come pene esattamente quello che ci siamo meritati c'è una retribuzione hai fatto il bene riceverai gloria hai fatto il male riceverai infamia ti sei mortificato nei piaceri della carne riceverai i diletti ineffabili hai peccato dando di maniera sprocedata ai peccati impuri soffrirai nei sensi in quegli stessi sensi con i quali hai peccati e in maniera proporzionata a quante ne hai combinate si facciano anche i sorrisini ironici ma sentiamo poi come conclude di là verrà con tutti i santi per tenere il giudizio e assegnare ad ognuno il debito del suo salario è un salario cioè voi capite se uno lavora tu prendi i soldi se lavori capite se lavori te pagano perché se non lavori te cacciano a calci e te licenziano il salario è quello che ti sei meritato col sudore della tua fronte chiaro? assegnare ad ognuno il debito del suo salario per ciò che di bene o di male ha fatto nel corpo crediamo che la Santa Chiesa Cattolica che egli ha acquistato a prezzo del suo sangue regnerà con lui in perpetuo bello questo qui stando nel suo grembo nel grembo della Chiesa crediamo e professiamo un solo battesimo per l'emissione di tutti i peccati in questa fede crediamo veracemente la risurrezione dei morti e aspettiamo il gaudio del tempo futuro solo per questo dobbiamo pregare e questo dobbiamo richiedere guardate la sana dottrina cattolica solo per questo noi non stiamo qui per fare non si sa bene che cosa d'accordo per promuovere le l'iniziativa umane solo per questo c'è scritto dobbiamo pregare e dobbiamo richiedere che il figlio allorché dopo aver compiuto e terminato il giudizio consiglierà regno a Dio padre ci faccia partecipare del suo regno dobbiamo pregare di andare in paradiso e di salvarci l'anima a ciò che mediante questa fede con la quale siamo uniti regniamo con lui senza fine attenzione alla finale questa è l'esposizione della nostra professione di fede mediante la quale viene annientata la dottrina di tutti gli eretici mediante la quale i cuori dei fedeli vengono mondati e mediante la quale si giunge anche gloriosamente a Dio queste cose furono sono e sempre saranno non è in potere di nessuno cambiarle o alterarle sono stato chiaro sì andiamo avanti undicesimo sinodo di Toledo anno 693 densinger numero 574 la risurrezione dei morti si chiama proprio così il paragrafetto come egli per darci un esempio con la sua risurrezione e vivificandoci dopo due giorni il terzo giorno risuscitò vivo dai morti così vogliamo sempre credere che anche noi alla fine di questo tempo risorgeremo attenzione non in un'ombra aerea altra volta qui passano gli anni ma si vede che queste dottrine stentavano a morire o nell'ombra di un'apparizione come afferma l'opinione reggettabile di certa gente compreso un patriarca di Costantinopoli sta in nota contro il patriarca eutichio di Costantinopoli contro cui si è scagliato anche San Gregorio Magno Nemoralia in Job quindi il patriarca di Costantinopoli quindi che ci sia qualche vescovo che svalvola è storia antica Nestorio quello contro cui è stato fatto il concilio di Efeso era un altro vescovo di Costantinopoli Ario contro cui è stato fatto il concilio di Nicea era un prete di Alessandria come afferma l'opinione reggettabile di certa gente quindi non in un'ombra aerea o nell'ombra di un'apparizione bensì nella sostanza della veridica carne in cui ora siamo e viviamo e al momento del giudizio staremo davanti a Cristo e ai suoi angeli e ognuno riferirà ciò che ha fatto nel corpo di bene o di male e riceverà da lui o il regno dell'illimitata beatitudine per le sue azioni non per la misericordia o per le sue scelleratezze la fine della dannazione perpetua e se scelleratezze ha fatto non c'è misericordia quindi al momento del giudizio la sostanza guardate che bella espressione la sostanza della veridica carne in cui ora siamo e viviamo vedete che tutti i testi insegnano continuano ad affermare che è la stessa carne nella quale viviamo Gesù risorto si è fatto toccare lo sentiremo adesso siamo nel tempo di passione stiamo andando un pochino avanti ma nella settimana in Alvis tutti i racconti delle apparizioni si fa toccare mangia perché gli apostoli credevano ad aver visto un fantasma è un fantasma è un fantasma non è nessun un fantasma non c'è un corpo etereo c'è un corpo che si tocca c'è un corpo che è caldo certo è glorificato ma è questo corpo ancora stavolta sentiamo un grande papa Leone nono uno dei tanti leoni del corso della storia della chiesa Leone nono ha scritto una bellissima lettera pensate un po' a Pier Damiani poi è diventato santo quindi la troviamo è una lettera del 1054 quindi siamo già ormai nel medioevo la troviamo nel denzig era numero 684 è un frammento molto molto breve molto breve credo che la chiesa santa cattolica apostolica è l'unica sola vera chiesa nella quale amministrato l'unico battesimo è l'unica vera remissione di tutti i peccati e credo anche la risurrezione vera di questa medesima carne che ora possiedo è la vita eterna vedete ancora una volta come un mantra la medesima carne che io possiedo la medesima carne lo stesso corpo che abbiamo qui ancora Innocenzo III Innocenzo III lo ricordo sempre è il Papa che ha approvato la regola di San Francesco è stato un grande Papa Innocenzo III nel numero dunque nella lettera all'arcivescovo di Tarragona del 1215 si trova molto lunga la lettera molto bellissima che è la professione di fede prescritta ai valdesi a quei tempi dilagava impazzavano impazzava l'etesia valdese insieme alle altre una lettera molto lunga e molto bella l'argomento che ci interessa si trova alla fine 797 nel Densinger Noi crediamo che il diavolo è diventato cattivo attenzione non per predisposizione ma per libera scelta con il cuore crediamo e con la bocca confessiamo la risurrezione di questa stessa carne che abbiamo non di un'altra vedete ancora una volta noi fermamente crediamo e affermiamo che ci sarà anche un giudizio da parte di Gesù e che i singoli riceveranno sentite ancora a seconda delle cose che hanno compiuto in questa carne le pene o i premi pene e premi presuppongono il concetto di merito il concetto di merito presuppone la giustizia a stricto senso in galera non ci vanno le persone oneste in questa vita ci vanno i criminali se li beccano o se li fanno il processo e la pena è proporzionata al numero e alla gravità dei reati che hanno commesso le persone meritevoli o che appaiono tali da un punto di vista civile si beccano le onorificenze del Presidente della Repubblica diventano cavalieri commendatori in campo ecclesiastico diventano monsignori monsignori è un titolo di merito è un riconoscimento ecclesiastico d'accordo o diventano vescovi o diventano cardinali i meritori poi che questi meriti siano reali o solo apparenti questo Dio solo lo sa però e cioè queste cose funzionano in forza della giustizia fermamente crediamo o noi crediamo anche che le lemosine e il sacrificio delle altre opere di bene possono giocare ai defunti questo l'abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato dei suffragi e noi confessiamo e crediamo che quello che restano nel mondo e che rimangono in possesso delle loro cose e che fanno lemosine e altre opere buone con ciò che possiedono non servono i progetti del Signore sono salvati vedete qui c'è un chiarissimo riferimento all'eresie degli ordini mendicanti che si sono salvati San Francesco e San Domenico perché gli ordini mendicanti i pauperisti che oggi ci sono in giro i novelli i pauperisti dicevano che o tu vendi tutto e dai poveri oppure se tu possiedi ricchezze in questo mondo tu te ne vai all'inferno per il fatto stesso di avere dei beni in questo mondo e di essere benestanti tu te ne vai dritta all'inferno peccato che se questo fosse vero per esempio il miglior amico di Gesù di cui abbiamo sentito parlare domenica scorsa durante la messa che è Lazzaro sarebbe stato sprofondato nell'inferno più profondo perché il figlio di Teofilo aveva un sacco di sordi diremmo oggi però non mi sembra che Lazzaro sia sprofondato negli abissi dell'inferno quindi quelli che restano nel mondo e che rimangono in possesso delle loro cose tante quanto il Signore gliene ha date e che sono acquisite a onesto titolo eredità donazione retribuzione lavoro qualunque giusto titolo e che fanno le mosine quindi certamente le mosine bisogna farle e altre opere buone con ciò che possiedono certamente l'accumulo e l'uso egoistico delle ricchezze non va bene ma se uno ha ricchezze fa le mosine fa opere buone e per il resto se le gode non va all'inferno non è dannato fanno altre opere buone con ciò che possiedono e osservano i precetti del Signore sono salvati e questo è Onocenzo III poi abbiamo il concilio lateranense IV bellissimo concilio dogmatico meraviglioso di cui leggiamo il numero 801 dove chiaramente come già da dove siamo partiti si parte dall'incarnazione e poi si termina con la risurrezione della carne anche questo lo leggo tutto per esteso è molto bello e poi un breve commento infine il figlio unigenito di Dio Gesù Cristo incarnatosi per l'opera comune di tutta la Trinità concepito da Maria semprevergine con la cooperazione dello Spirito Santo divenuto vero uomo vedete composto di un'anima razionale e di un corpo umano perché ci sia un uomo ci deve essere una composizione unita sostanzialmente tra l'altro di un'anima razionale con un corpo una sola persona in due nature manifestò più chiaramente la via della vita immortale e incapace di soffrire secondo la divinità egli stesso si fece passibile e mortale secondo l'umanità dopo aver sofferto sul legno della croce di essere morto per la salvezza del genere umano è disceso agli inferi è risorto dai morti ed è salito al cielo ma è disceso nella sua anima vedete che bello è risorto nel suo corpo ed è salito ugualmente con l'uno e con l'altro bellissima questa espressione ora verrà la fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le sue opere i reprobi come gli eletti attenzione che in latino c'è proprio il termine redditurus redditus no? il reddito quindi che cos'è il reddito? il reddito quello che ti sei meritato quello che ti viene reso tutti risorgeranno ancora coi corpi di cui ora sono rivestiti tutti la risurrezione non è soltanto dei buoni tutti risorgeranno per ricevere secondo che le loro opere siano state buone o malvagie gli uni la pena eterna con il diavolo e gli altri la gloria eterna col Cristo allora amici cari vogliamo dire più chiaro di così come fa come fa a dicere più chiaro di così andiamo a dare un'occhiata anche se evidentemente questo documento non è a livello di quello che abbiamo ascoltato però ci rende anche un pochino ragione dell'aria che tirava e che non ha cessato di tirare ecco perché di stupidaggini teologiche continuano ad esserne dette ahimè a gogo ed è la lettera sulla scatologia di della congregazione della dottrina della fede allora questa sagra congregazione avendo la responsabilità di promuovere e tutelare la dottrina della fede questo è la lettera sulla scatologia del 1979 al Densinger si trova ai numeri 4650 seguenti avendo la responsabilità di promuovere e tutelare la dottrina della fede intende qui richiamare l'insegnamento che la chiesa propone a nome di Cristo specialmente circa quel che avviene tra la morte del cristiano e la risurrezione universale 1 la chiesa crede alla risurrezione dei morti 2 la chiesa intende tale risurrezione come riferentesi all'uomo tutto intero per gli eletti questa non è altro che l'estensione agli uomini della risurrezione stessa di Cristo questi sono i punti proprio fondamentali poi ce ne sono altri qui che però non sono direttamente connessi perché qui si parla della parosia si parla della sussistenza dell'anima dopo la morte e della felicità dei giusti che regneranno con Cristo del giudizio universale eccetera no? può bastare però per chiudere un attimo questa rassegna e passare adesso al vediamo se riusciamo a giurare con questa volta la fiera a un altro testo di riferimento diciamo così importante che è appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica il Catechismo del 1992 che rimane un testo che ha cercato di raccogliere in forma come desiderà San Giovanni Paolo II aggiornata quella che è la quintessenza della sana dottrina cattolica sapete che dopo questo testo è stato fatto da Papa Ratzinger il compendio che vuole essere come dire un tentativo di ridare vigore a quella sistematizzazione che aveva realizzato San Pio X semplice scorrevole sotto forma di domande e risposta comunque noi qui prendiamo come come riferimento il Catechismo grosso del 1992 l'articolo 11 è dedicato a credo la risurrezione della carne che è il nostro articolo e quindi cominciamo a vedere alcuni passaggi numero 989 anzitutto noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre e così può pure i giusti dopo la loro morte vivranno per sempre con Cristo risorto e che egli li risusciterà nell'ultimo giorno come la sua anche la nostra risurrezione sarà opera della Santissima Trinità e cita San Paolo se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in noi numero 990 il termine carne designa l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità la risurrezione della carne significa che dopo la morte non ci sarà soltanto la vita dell'anima immortale ma che anche i nostri corpi mortali riprenderanno vita 991 credere nella risurrezione dei morti è stato un elemento essenziale della fede cristiana fin dalle sue origini fiducia cristiano non un risurrezione mortu mortu orum il credentes sumus cioè la risurrezione dei morti e la fede dei cristiani credendo in essa siamo tali e qui c'è una situazione del passaggio di un ampio stralcio della prima lettera di San Paolo e Corinzi l'abbiamo vista la volta scorsa alcuni stralci come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti se non esiste risurrezione dei morti neanche Cristo è risuscitato ma se Cristo non è risuscitato allora va nella nostra predicazione ed va anche la vostra fede ora invece Cristo è risuscitato dai morti prima inizia di quello che sono morti più avanti nel 995 il catechismo spiega che risusciteremo come lui quindi come Gesù con lui e per mezzo di lui cito essere testimone di Cristo è essere testimone della sua risurrezione aver mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti la speranza cristiana nella risurrezione è contrassegnata dagli incontri con Cristo risorto noi risusciteremo come lui con lui e per mezzo di lui infine nel 996 fin dagli inizi la fede cristiana nella risurrezione ha incontrato incomprensione ed opposizioni in nessun altro argomento la fede cristiana incontra tanta opposizione come a proposito della risurrezione e della carne si accetta abbastanza facilmente che dopo la morte la vita della persona umana continui in modo spirituale ma come credere che questo corpo la cui mortalità è tanto evidente possa risorgere per la vita eterna e si dice subito dopo anzitutto che cosa significa risuscitare numero 997 con la morte separazione dell'anima e del corpo il corpo dell'uomo cade nella corruzione mentre la sua anima va incontro a Dio pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo globificato Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi riunendole alle nostre anime in forza della risurrezione di Gesù numero 998 chi risusciterà tutti gli uomini che sono morti usciranno dai sepolcri citazione di Giovanni 5,29 quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna come risusciteremo si chiede il catechismo dei numeri 999 1000 ora Cristo è risorto con il suo proprio corpo guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io ma egli non è ritornato ad una vita terrena allo stesso modo in lui tutti risorgeranno con i corpi di cui ora sono rivestiti ma questo corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso in corpo spirituale corpo spirituale non vuol dire corpo etereo ma vuol dire corpo in cui il dominio dello spirito santo e quindi della gloria divina sarà perfetto e quindi non più soggetto a morire e poi approfondiremo con santo maso d'aquino c'è la citazione ancora della prima lettera dei corinzi come risuscitano i morti con quale corpo verranno stolto ciò che tu semini non prende vita se prima non muore e quella che semini non è corpo che nascerà ma un semplice chicco si semina corruttibile e risorge incorruttibile è necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di immortalità e questo corpo si vesta di immortalità vedremo la prossima volta con santo maso d'aquino che significano queste espressioni ed altre usate da San Paolo nella prima lettera dei corinzi il modo con cui avviene la resurrezione numero mille supera la possibilità della nostra immaginazione e del nostro interletto è accessibile solo nella fede ma la nostra partecipazione all'eucharistia ci fa già prefigurare la trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo come il pane frutto della terra dopo che è stato invocato su di essere la benedizione divina non è più pane comune ma è eucaristia composta di due realtà una terreno e l'altra celeste così i nostri corpi che ricevono l'eucaristia non sono più corruttibili dal momento che portano in sé il germe della risurrezione quando avverrà la risurrezione numero mille uno definitivamente nell'ultimo giorno alla fine del mondo infatti la risurrezione dei morti è intimamente associata alla parusia di Cristo perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo ora mille e due se è vero che Cristo ci risusciterà nell'ultimo giorno è anche vero che per un certo aspetto siamo già risuscitati con Cristo infatti grazie allo Spirito Santo la vita cristiana fin d'ora su questa terra è una partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo nuova citazione di San Paolo Colossesi 2.12.3.1 e nel 1003 spiegherà che battesime e eucaristia sono pregustazione della risurrezione i credenti uniti a Cristo mediante il battesimo partecipano già realmente alla vita celeste di Cristo risorto ma questa vita rimane nascosta con Cristo in Dio nutriti del suo corpo nell'eucaristia apparteniamo già al corpo di Cristo quando risusciteremo nell'ultimo giorno allora saremo anche noi manifestati con Lui nella gloria allora nel 1004 viene affermata l'esigenza del doveroso rispetto per il corpo umano in quanto destinata a risorgere nell'attesa di quel giorno il corpo e l'anima del credente già partecipano alla dignità di essere in Cristo e di cui l'esigenza di rispetto verso il proprio corpo ma anche verso quello degli altri particolarmente quando soffre il corpo è per il Signore il Signore è per il corpo Dio poi che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la potenza sua non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo non appartenete a voi stessi glorificate dunque a Dio nel vostro corpo infine leggiamo anche che la morte 1013 è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo è la fine del tempo della grazia e della misericordia che gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta non c'è reincarnazione dopo la morte ho voluto leggere questo punto perché anche la reincarnazione grazie alla diffusione delle filosofie orientali buddiste è tema di cui si sente non di rado parlare è chiaro che connesso con questo tema ci sarebbe un altro discorso da fare per esempio sulla cremazione che non è escluso che sia da farsi però magari andando a leggere anche lì l'istruzione di Müller del 2014 che spiega bene alcune cose come la pratica della cremazione non è cristiana non è nata in ambiente cristiano e se adesso è tollerata dalla Chiesa ad alcune condizioni ed in alcune circostanze non è assolutamente la forma migliore di esprimere il rispetto verso questa cosa che certamente dovrà pagare il tributo della morte ma che comunque è sacra ancor più se di un cristiano battezzato e che si è fatto tante volte la comunione quindi abitato e consacrato dalla grazia di Dio bene amici con questo abbiamo finito la parte dedicata al magistero quindi ci fermiamo e ci diamo appuntamento alla prossima volta per non appesantire troppo anche perché ci sarebbe tempo di trattare altro che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga grazie a tutti